Hi guys, I'm happy to be back. Follow us on YouTube, subscribe to Dinamo TV. I've visited places that I only saw on the internet. It was amazing and I think that next year I'll do the same kind of journey. Yes, I'm very excited because I'm talking about it all, so there's a lot of pressure, but the pressure is transformed into positivity. I have a lot of desire to start. I don't see l'ora in this new role and we hope that it will go well. It's a Dinamo italian, we have 8 Italians, so we will speak more Italian, we will try to learn the language to foreigners. No, a part of the joke, I'm happy that there are good Italians who are here at Sassari, so we hope to continue on this project in the future, which will bring great fruits. What do you want to do to work with your hands-on? Lavorare, testa bassa, umiltà, ma sempre con il sorriso. Abbiamo un appuntamento importante, lo sappiamo tutti, possiamo vincere un altro trofeo nell'arco di un mese, quindi è veramente stimolante, ma dobbiamo stare sereni. Il post ci trasmetterà sicuramente tanta fiducia, tanta serenità e vedremo a che punto saremo al 21 settembre. Qual è il nome di Curtis? Sono tutti e quattro curiosi, non ce ne sono in particolare, ovvio il nome che ti fa spalancare un po' gli occhi è quello di Curtis, di Curtis Gerralls, ma anche di Bilan, di Evans, di Michele. Sono curioso quando vado a conoscere persone nuove, magari anche di Maganza, magari la personalità, il carattere che hanno, questa è una cosa che mi incuriosisce. Poi ovviamente sul campo ti devi conoscere perché devi convivere praticamente tutto l'anno, quindi sarà un processo che durerà tutto il precampionato. Il Banco di Sardegna È capace di raggiungere tutti. Banco di Sardegna, sempre più vicino. Hi guys, I'm happy to be back. Follow us on YouTube, subscribe to Dinamo TV.